E il medico non si ammala mai, vuoi perché ha studiato, vuoi perché è fortunato, vuoi perché è strafagato e quindi non si può ammalare. E poi c'è il cantatore che invece li fa ammalare tutti quanti perché affingera gente coi problemi, coi drammi e coi patemi d'animo. Io mi colloco proprio al centro di tutti questi. Io le ammorto le persone con le canzoni da una parte, dall'altra mi vado a curare con pillone d'esaggenza attraverso paraboliche improbabili o addirittura a domicilio. In sostanza la mia massima alla fine della fiera è questa. Non tutto lo zero viene per nuocere. Non tutto lo zero viene per nuocere.